Una partita burascosa, sospesa per dieci minuti a metà ripresa, quando D'Amico, su rigore, ha pareggiato la rete realizzata da Carnevale nel primo tempo. Un bel gol davvero, eccolo, arrivato al diciannovesimo con un gran tiro che ha letteralmente buccato le mani vanamente protese di Orsi. La Lazio si è svegliata nella ripresa, negli altri campi le pericolanti stavano facendo punti e la squadra si è presentata in campo, decisa ad ottenere il pari. Lo tiene infatti al ventunesimo con questa tipica azione da Moviola. Nell'uso tallonato da Morra va a terra, rigore più che mai dubbio, fa iretto però per la massima punizione che D'Amico trasforma. La folla non ci sta e la partita viene sospesa per dieci minuti, poi alla ripresa del gioco Cantarutti fallisce così in maniera clamorosa il raddoppio per il Catania.